Allora chat, siamo su border, attacco, abbiamo Oscar vassallo, quindi penso sia vinta Eh, io gli leverei guide, border, ma anche maestro comunque, cioè ragazzi è super piccato e lo piccano tutti maestro Allora ragazzi i tasti, madonna comunque c'è passare da PC a console è tipo un trama esistenziale Porfetto ti giuro, rank? Siamo ancora a rame 2 Allora aspettate, le cam su console sono un po' un problema, ok Allora loro stanno giù, quindi secondo me Ah mi sa che buca, mi sa che c'è la botola aperta, per questo sento cose O è perché magari so pazzo, potrebbe essere quello Addirittura Addirittura Mi mettono clash Addirittura Addirittura Ok Perfetto Ho ucciso alle grande ragazzi Alle grande 11, devastato Palestamente scopato alle grande 11 Perché ti fanno il culo con i tiktok Ti dicono, senti, sì, tu rifallo porco due e ti apriamo in due Fracico proprio, avete capito? Eh sì, con la coltellata Mi piace così tanto Poi posso fare pure questo, ti giuro che se mi arrivano a sinistra urlo Ok Che cazzo faccio? Madonna raga Mi è un attacco di panico ogni volta che cammino Che cazzo di volta premo L1 Ogni volta raga premo L1 Non so neanche io perché Ogni volta premo quello L1 È quello L1 che non bisogna premere E io lo premo Oscar Vassallo 08 Grandissimo uomo Oscar Vassallo Ah, questi ci spottano Veramente Ma che cazzo faccio? Ste cose a rame C'è Come se veramente potessero far spawn kill Va qua Vabbè, due problemi comunque Ok, te lo dico Vedi cazzo di bruclanino il cervello Ok Vedo più incazzati questo Vedo cazzo più incazzati Allora, io farai uno là E uno là Oh, wow, 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 wow Sono saltati tutti Sono saltati tutti Ci ho capito niente Ma Non ci mozziniamo troppo ragazzi Che mi sembra E' proprio lei il miglior tubarao nella storia Cioè, dai Io penso che io sia il miglior tubarao In assoluto, sì Come lo uso io il tubarao Non lo uso neanche tubarao Ok Quindi Sì Posso dire di sì Posso acconsentire Palesemente Stocchi mi piace, eh Cliccate mi piace, mi piace, mi piace E' da un po' di tempo che non gioco Mi sono ferri del prodotto che stai usando Allora, questo Io lo chiamo ghiacciolo Ok Premi sta cosa E praticamente Hai Gadget da lanciare E Praticamente ghiaccia tutti i gadget Ti fa vedere Le impronte Dei passi sopra di te Questo Ferril invece Quello con la merdina là Che attiva sti cosi E se tu passi accanto Diventi cieco Diventi l'isin Nooo Blitz 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 Oh mio dio Ma ma allora È il cazzo però, eh Ragazzi Io vorremmo usarlo però Con console Solo porco Dunque, ragazzi Ho appena sentito Blitz E sono scappato Penso di aver fatto bene Il bello Sorry dude Sorry 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 Bro My bad Che figura D'inverda Mica però gli ha fatto un flick Devastante Ma in archivi Orco 2 Ma ragazzi ma sto giocando io Ma sto giocando io Ciao Gucci come va Ma sto giocando io Ma sto giocando io Insomma Va bene Mi potrebbe Mi potrebbe interessare questa cosa Ok Ok Un discreto Una discreta partita comunque da play Quindi io non posso di niente Non posso di niente Io accetto io voto Oscar che l'ho un po' distrutto E toxic perché non era toxic C'è Porco 2 ragazzi Ultimo round Se comincio a giocare come un ultimo round Divento una stella del cinema ve lo dico Cioè comincio a fare K-pop in giro per gli stati Io ve lo dico Poi succede non succede Non lo so Però se succede Lo faccio Dammi sto copper 1 subito Proprio Gnam 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 Gnam